Crespano crea uno scompiglio disturbando i presenti e minacciando l'autista ai quale promettono anche di fargliela pagare. È accaduto qualche giorno fa in una delle corriere di Mom nella tratta Crespano-Bassano del Grapp. Sul bus partito dall'istituto Maffioli c'era un gruppo di bulli che a corsa cominciata ha iniziato ad infastidire gli altri viaggiatori. Quando l'autista, resosi conto della situazione e intervenuto per intimare i ragazzini di smetterla e comportarsi in maniera consona, ha ricevuto risposte sgarbate, parolacce e frasi come te la faremo pagare. Sabato scorso stessa scena. Quando i ragazzini all'uscita da scuola si sono accorti che alla guida del mezzo c'era proprio lo stesso autista di qualche giorno prima, si sono appostati vicino alla corriera con un atteggiamento di sfida. Lui non ha aperto le porte del bus e sul posto per calmare gli animi sono dovuti intervenire anche i carabinieri.